Intervenuto ai microfoni di LabTV, l'avvocato di Fabio Luccioni, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato della vicenda, che ha visto coinvolto il difensore Sannita? Convocato in mattinata presso gli uffici Nado Italia a Roma. Questa mattina è stata un'audizione molto tranquilla, dove Luccioni ha raccontato i fatti in maniera serena. Si tratta di una vicenda di doping, ma legata ad un fatto accidentale? Si tratta di uno spray somministrato dal medico sociale al termine di un allenamento per cicatrizzare un'abrasione riportata in allenamento. Episodio banale ma che purtroppo ha portato a queste conseguenze. Alla luce delle informazioni di oggi, la procura vorrà ascoltare lo staff medico del Benevento. Sarà un passaggio fondamentale nella ricostruzione dei fatti. Fatto ciò, si potrà procedere con l'archiviazione del caso, ipotesi remota, perché il procedimento vero, e proprio è automatico con l'accertamento della presenza della sostanza somministrata. In caso contrario, ci sarà il giudizio, se ci sarà responsabilità del calciatore, ed in che misura, con l'eventuale sanzione. Difficile avere delle sensazioni in questo momento. In questo caso è evidente la buona fede del calciatore, che segue indicazioni dal medico della società e da auspico che le misure se ci saranno attenuate.